Morgan cancella tutti i post dal suo profilo Instagram e promette rivelazioni quotidiane Morgan, figura spesso al centro di controversie, è ora al centro dell'attenzione per le accuse di stalking da parte della sua ex compagna Recentemente, il cantante ha fatto notizia sui social media rimuovendo tutti i contenuti dal suo profilo Instagram In un criptico messaggio nelle sue Instagram Stories, firmandosi come, Morgangel, Morgan ha annunciato la sua intenzione di svelare la sua versione dei fatti in merito alla denuncia per stalking presentata dall'ex fidanzata Angelica Schiatti L'annuncio di Morgan sui social, Morgan ha utilizzato uno sfondo nero per il suo annuncio, conferendo un tono drammatico al messaggio Vi racconto tutta la storia di cosa è successo ha scritto il musicista Siete pronti? Da oggi, se volete conoscere la vera storia che ora conoscete solo attraverso le pubblicazioni di Selvaggia Lucarelli, vi racconto qualcosa di molto diverso Vi faccio entrare nella verità, ogni giorno avrete un pezzo per completare il quadro totale Morgangel, la vicenda risale al 2020, quando Angelica Schiatti, al tempo fidanzata di Morgan e attualmente legata al collega Calcutta, aveva denunciato il cantautore per stalking Ora, Morgan intende raccontare la sua versione dei fatti, Morgan promette nuove rivelazioni Con questo annuncio, Morgan sembra voler prendere le redini della narrazione, impegnandosi a svelare ogni giorno un nuovo frammento della sua verità Il pubblico e gli appassionati dei social sono in attesa di scoprire quali dettagli emergeranno dai prossimi messaggi del cantante Saranno rivelazioni sconvolgenti, o semplicemente un tentativo di ripulire la sua immagine pubblica? Solo il tempo potrà svelarlo, ma è certo che Morgan ha nuovamente catturato l'attenzione di tutti